La proposta sicuramente al momento è quello di cercare, così come siamo riusciti ad ottenere in ultima analisi nel disegno, nel reddito di cittadinanza, nell'approvazione al Senato, ha mantenuto alcuni emendamenti presentati dall'Alleanza contro la povertà, quindi è stata ridata dignità pari a centri per l'impiego ed ambiti territoriali e si è cercato di salvaguardare un po' l'impianto del reddito di inclusione. Riteniamo che sia fondamentale affiancare al concetto di assistenza e di previdenza quello dell'inclusione, quindi la misura deve diventare più inclusiva, attivazione ed accompagnamento per la fuoriuscita dello stato di bisogno, quindi non una misura assistenzialistica ma una misura inclusiva, non una misura scadenza ma una misura strutturale, quindi sicuramente noi miriamo verso una strutturazione della misura che accompagni effettivamente alla fuoriuscita dello stato di bisogno. Alleanza contro la povertà campana e regione campagna oggi si mettono insieme e lanciano una sfida, quella di una governance condivisa sui territori per cercare di trovare le opportunità e eliminare le trappole possibili di una simile misura.